FITOTERAPIA E' quella pratica terapeutica umana comune a tutte le culture e le popolazioni sin dalla preistoria che prevede l'utilizzo di piante o estratti di piante per la cura delle malattie o per il mantenimento del benessere. La fitoterapia è considerata una medicina alternativa o complementare nella maggior parte degli stati membri dell'Unione Europea e negli Stati Uniti d'America anche se alcune piante e soprattutto alcune frazioni di pianta sono riconosciute e utilizzate anche dalla medicina scientifica tradizionale. La romar terapia invece è un ramo della fitoterapia che usa gli oli essenziali, ossia le sostanze volatili e fortemente odoranti delle piante nell'ipotesi che il loro odore abbia effetti benefici sulla salute. Non ci sono prove scientifiche che mostrino effetti benefici di questa terapia superiori all'effetto placebo. Tuttavia andare in campagna e nei boschi, anche se al mare, ad annusare il verde, i profumi dei fiori, vuol dire stimolare le aree antiche del cervello da cui nasce la nostra salute. Annusare il verde è un potente farmaco, il naturale è il nostro rifugio, la nostra arma segreta, fatta a misura dell'uomo. Partiamo dalla sua esperienza che dicevamo è nata come esperienza di oncologo, di immunologo, ha lavorato nel nostro paese, ha lavorato all'estero. Poi da lì il suo interesse si è, non dico spostato, si è spostato e diventato complementare a quello che faceva, fino ad arrivare a questo importante progetto in un campus del Congo, per il quale riusciremo addirittura ad arrivare a parlare di sicurezza alimentare nei paesi in via di sviluppo. Che cosa vuol dire e che cosa prevede questo progetto? Grazie, buonasera a tutti. Come prima abbiamo avuto occasione, faccio di parlare fra di noi, quello che è la mia esperienza personale, nasce nella forma più accademica e immaginabile. Giovani oncologi degli anni 70, prendiamo tutti quanti le valigie e andiamo altrove, a cercare un luogo, faccio uno spazio, in cui coltivare quelle che sono le nostre ambizioni, la speranza in qualche modo di proteggere la gente dalla neoplasia e faccio dei tumori. La mia è la più vicina, Gustavo Russi, faccio Parigi, laboratorio di ricerca, nuovi farmaci. E in maniera del tutto casuale scopro che i nuovi farmaci hanno quasi tutti una partenza vegetale. Curioso, chiedo di essere mandato in comando in quelli che erano le zone in cui, in qualche modo, la materia prima, che diventava la sostanza con cui drogavi le culture cellulari, nasceva. E quella che era la foresta, non tanto quella amazonica, ma quella congolese, ne diventa il sito preferito. Sito preferito perché già all'epoca era difficile, in qualche modo, faccio entrare nella foresta amazonica, che era a qualche modo prerogativa degli Stati Uniti, mentre i tunnel congolesi sono altrettanto ricchi, tanto da far pensare, faccio che in qualche modo esistesse, faccio una matrice comune. Situazione faccio oggi, dopo 30-40 anni, faccio di esperienza. Fantasia, sogno, utopia. Quella di rendere in qualche modo autonomi, sotto il profilo farmaceutico, i paesi, quanto meno, della foresta del rift, che è la foresta nella quale c'è maggior numero di varietà, faccio di esperienza. Circa 800.000 cinesi che sono arrivati, faccio in Congo. E non tanto il 2010, come è l'anno della biodiversità, ma per noi c'è un'altra tappa importante, sicuramente non favorevole, che è l'accordo a New York del 2009, su quelle che sono le terre coltivabili. Con, a seguito, quello che era il problema, faccio nerica, faccio che è l'acronimo delle nuove specie, faccio di riso, faccio coltivate, faccio in quelle zone. Qui è esattamente il contrario della biodiversità. Un'unica specie che deve essere riacquistata, faccio tutti gli anni, è che per produrre ha bisogno di un grossissimo quantitativo, faccio di fertilizzanti. 800.000 faccio cinesi, 4-6 milioni faccio di morti, sono quelli che ci sono stati, faccio in Congo, faccio in questa guerra ancora non finita, almeno faccio sulla frontiera, faccio d'Oriente. Dov'è il posto in cui si fa pace? La tavola. La tavola faccio da sempre, faccio, si lasciano, faccio le armi, faccio l'uscio. Se si è mangiato bene, si è condiviso, ci si è incontrati. C'è il rispetto, faccio, e la dignità, faccio dell'altro. Forse è possibile mettere, faccio insieme, faccio qualche cosa. Partendo dal presupposto che possono esistere, faccio delle coltivazioni, faccio locale, che possono essere, faccio altrettanto ricche, altrettanto, faccio importanti. È chiaro, faccio che occorre cultura, perché non è soltanto la cultura, sul quale ci sarebbe già tantissimo da dire, ma è la cultura che si sposa, faccio con la cultura. Riuscire a essere insieme, mantenendo quella che è la propria radice, la propria, faccio tradizione, faccio da sempre attraverso il cibo. Immigranti per Antonomasia, che è il popolo ebreo, è riuscito a mantenere, faccio la propria, faccio identità. Esiste un progetto nella nostra città, stiamo parlando di Torino, che mette in pratica un po' quello che stavamo raccontando, il progetto che viene portato avanti anche in Africa. Di che cosa si tratta? Vogliamo arrivare all'antropologia del cibo, o antropologia faccio della nutrizione, che supera faccio quelli che sono le conceziazioni, soprattutto di tipo sociale, faccio storico. Torino è una città che può avere una ricchezza colossale di migranti e di profughi politici. Ognuno faccio con un'anima che non trova uno spazio. Il nostro sogno è ospitare, a cadenza mensile, quelli che possono essere tutte le regioni del mondo, che possono portare, faccio i loro cibi... Scusi se la interrompo, poi la faccio continuare. Queste sono le immagini del posto, del centro di cui stiamo parlando. Sì, mi dica. I loro cibi, faccio i loro saperi, i loro libri, faccio la loro musica. È un momento aggregante. E al tempo stesso mantenere quella che era la famosa filiere, faccio a chilometri zero, faccio a metro zero. Se non è possibile per tutte le derrate, perché le contaminazioni vengono anche da fuori, ma poter in qualche modo interagire, faccio integrarlo con quelli che sono i saperi, faccio i sapori nostri. Materie prime, faccio di qualità, faccio che possono essere prodotte, in qualche modo faccio nel nostro paese. Certo. Stando nel campo della coltivazione delle erbe officinali, esiste una normativa che deve essere rispettata? Per esempio, un codice europeo, anche per il controllo dell'utilizzo di queste piante? Oggi è ancora un sogno. Nasce come progetto nel 2002, nel 2004, faccio a Celessa, faccio a Parma, che sta disperatamente di dare, faccio dei suggerimenti su quelli che possono essere i modi. Oggi il controllo di qualità è quasi sempre faccio alla fine, sul prodotto finito, le famose schede tecniche in cui vengono riportati, i tenori, faccio in pesticidi, diserbanti, faccio metalli pensanti, faccio e quant'altro. Però anche su questo, lei sa a parere non deliberante, faccio ma consuntivo. Significa, faccio che, soltanto faccio il 40%, faccio dei paesi, hanno un registro nazionale, per poter verificare, faccio quello che sta succedendo. Cinque paesi, faccio della comunità europea, non si sono ancora, faccio accordati su questo incontro. E drammaticamente la situazione, faccio ancora peggio sulle piante officinali, quando sull'88% della popolazione, non ci sono, faccio dei controlli adeguati, su quello che è l'effetto del prodotto, che ha una scheda tecnica, può in qualche modo, determinare come effetto biologico, faccio sulla persona. Cos'è la fitoterapia e quali sono le sue basi scientifiche, a questo punto? Fitoterapia, la fitoterapia è l'utilizzo, faccio della pianta medicinale, o di parti di esse, a scopo terapeutico. In realtà, fitoterapia è medicina, molto di prima che ci fosse il successo colossale dell'ultimo secolo, faccio della chimica. E anche su quello che è il suo ruolo, sembra la cenerentola del mondo ufficiale. Esistono in tutte quante le facoltà, i normali insegnamenti di fitochimica, farmacognosia, botanica farmaceutica, botanica vegetale, salvo che nella facoltà di medicina. Quindi gli studenti di farmacia, di chimica e tecnologia farmaceutica, faccio di agraria, hanno nel loro corso, faccio di studi, degli insegnamenti di botanica farmaceutica, non i medici. Quella che è la catena di farmacologia di oggi, era la catena di farmacognosia a faccia degli anni 40, a faccia degli anni 50. E oggi è uno spazio, faccio purtroppo vuoto. Manchiamo di leggi, manchiamo di normative, faccio appropiate, ma da sempre faccio l'uomo a questo rapporto, faccio diretto, faccio con il mondo vegetale, di cui l'80% di abitanti del mondo continua oggi come sempre, faccio a farne uso. Che cosa si può curare con la fitoterapia, obiettivamente? La domanda articolata e la risposta sarebbe infinita. Per cercare di mettere uno schema, ma nel mondo non esiste, faccio uno schema, è che così come il farmaco di sintesi o il principio attivo è vincente su tutte le patologie acute, il mondo vegetale è vincente su tutte le patologie croniche. Il problema oggi è che soprattutto nell'Occidente ricco il problema più grande sono le patologie croniche, non le patologie acute. Tutto il problema della terza età, ipermedicalizzata. E questo è un problema non soltanto per chi assume il farmaco, ma per tutto quello che è il problema inquinamento ambientale faccio legato dai farmaci. Più che una distinzione faccio tra le malattie o per essere più corretti faccio sui malati. E la differenza tra il principio attivo e il fitocomplesso. Moltissimi farmaci oggi in oncologia hanno una derivazione vegetale o estrattiva o di semisintesi, ma si fa riferimento a un unico principio attivo e il famoso effetto chiave faccio serratura. Il mondo vegetale e la fitoterapia sono invece l'espressione del fitocomplesso. Il fitocomplesso è l'insieme di centinaia di migliaia di principi attivi. Il calice di vino rosso faccio gustato ieri sera, aveva come minimo centomila flavoni, faccio duecentomila mantociani, il resveratrolo che va così di moda. Un conto è bere un bicchiere di resveratrolo, un conto faccio una coppa di champagne. Cos'è l'aromoterapia? L'aromoterapia parte sempre dal mondo vegetale e completamente diversa la tipologia di estrazione. e le sostanze di queste famose centinaia di migliaia che in ognuna delle ottocentomila fanerogame che il mondo ci regala sono presenti. La resa è bassissima. Si calcola che da una qualsiasi faccia sostanza faccio la sua scelta. La rosa di Plovv, faccio per ritornare un profumo, la resa è pari al 2 per mille. Quindi immagini in questo 2 per mille dell'estratto cosa posso esserci. e in queste cose che rimangono sono soprattutto i composti volatili che sono i più interessanti. Quando lei parla faccio di aromi, quando parla di oli essenziali, lei parla di profumo. Quindi se più simpatico per chi ci ascolta, immaginate il profumo che portate addosso. Quella è aromaterapia. oltre a face 10 anni la città dei profumi per Antonomasia che era grassa in cui la famosa faccio la banda di grassa è ormai stigmatizzata facendo tutti quanti gli impressionisti che la andavano a passare l'ultima fase dalla loro faccia vita. C'è questo momento di incontro di tutti coloro che al mondo si occupano faccio di profumi e di oli essenziali. Ecco il legame faccio storico faccio della città faccio a quello che è il senso faccio della città faccio stessa. Uno degli argomenti di quest'anno erano proprio le neuroscienze. il chairman della giornata faccio a quello dedicata erano delle prospettive interessantissime faccio su quello che è un mondo che sta perdendo la sua memoria e lo verifichiamo tutti i giorni con quella che è l'escalation delle malattie del sistema nervoso faccio centrale. Tante cose dette faccio tante proposte grossissimi laboratori faccio se ne stanno occupando e perché no con il recupero della sinestesia faccio a livello cerebrale e con il recupero della memoria faccio a forse qualche risultato potrebbe esserci. Ancora più ambizioso programma dell'anno 21 sarà dedicato alle patologie ambientali sensibilizzazione chimica multipla quelle in cui comunque la chimica deve fare un passo indietro perché è lei che la determini perché non di nuovo il mondo vegetale perché non di nuovo forse attraverso il profumo la possibilità di ipotizzare faccio delle risposte. ma anche delle possibili controindicazioni o magari dei danni che si possono fare se si fa abuso di erbe può succedere? Certo per un'infinità faccio di motivi e sono quelli da cui abbiamo incominciato la mancanza di radici e la mancanza faccio di cultura era scontato che in una famiglia faccio la mamma conoscesse faccio l'uso che in qualche modo faccio indipendentemente faccio da quello che era a livello culturale faccio scolastico era stato comunque lasciato in eredità faccio dalle nonne faccio dalle nonne faccio dalle nonne stratificato verificato e anche se non si parlava faccio di filiera a chilometri zero era una filiera forse a metri zero a metri zero automaticamente c'è zero che semplificato era frutta e verdura di stagione fuori porta quindi se è possibile faccio un consiglio quelle che sono di casa nostra anche se in qualche modo inquinate e inquinata come noi e quindi in ogni caso ha un'armonia faccio con noi non ci si inventa non ci si costruisce dall'oggi al domani ci si cimenta come nelle cucine faccio quando le nostre sorelle faccio più piccole passavano a tirarla sfoglia e a provare tutti i gusti dell'orto per fare in qualche modo faccio un piatto ben riuscito è lo stesso discorso e dall'altra parte vale per l'offerta la Cina ci invade con 5.000 nuovi prodotti costruiti di colpo per il nostro mercato erano 280 e sono diventati 5.280 faccio in un anno non seguendo che era la medicina cinese ma seguendo i codici nosologici quindi la tipologia di quello che è malattia per l'Occidente faccio in cui faccio entravano e non è filiera a metri zero neanche a chilometri zero fitoterapia erboristeria dei mondi molto interessanti molto importanti che appartengono comunque alla scienza medica e come tali richiedono una diagnosi una prescrizione corretta e soprattutto che i prodotti che noi utilizziamo siano dei prodotti puri non contengano al loro interno delle sostanze chimiche tossiche come metalli pesanti come pesticidi come diserbanti onde evitare che un decotto di malva o di qualche altro prodotto anziché essere un decotto curativo possa invece intossicare il nostro organismo la fitoterapia come ci è stato ricordato in questa puntata di Antropos è una scienza medica cura o cerca di curare delle patologie spesso con un'attività complementare a quella che è la medicina ufficiale quindi a volte serve per ridurre l'assunzione di farmaci allopatici oppure per potenziarne l'effetto mentre l'aromaterapia come abbiamo visto si occupa di oli essenziali e di essenze voglio ricordare naturalmente il sito della nostra trasmissione che è www.quartarete.it tv scusate e la nostra mail che è antropos chiocciola quartarete.tv questo per poter scrivere per poter suggerire degli argomenti che volete che siano trattati ma anche proprio per andare a rivedere le nostre trasmissioni e gli approfondimenti che abbiamo appunto fatto aromaterapia è questa branca della fitoterapia che si occupa dei profumi cercando di stimolare le zone del nostro cervello e cercando quindi anche di aiutare a riequilibrare alcune funzioni del nostro cervello che a volte si perdono per lo stress si perdono per delle patologie concomitante si perdono anche semplicemente perché tutti noi viviamo di più e quindi invecchiamo di più viviamo quindi più a lungo ma spesso portandoci dietro delle patologie croniche delle patologie degenerative e proprio verso questo tipo di patologie si rivolge la fitoterapia e si rivolge la romarterapia queste due tecniche terapeutiche queste due medicine complementari fanno parte insieme all'agopuntura insieme alla omeopatia di una serie di terapie mediche che vengono in qualche modo riconosciute che sono nell'Unione Europea considerate comunque medicine complementari ma che tuttavia hanno delle chiare problematiche anche nel loro impiego non dobbiamo infatti dimenticarci che possono esistere delle interazioni con dei farmaci e queste erbe questi prodotti fitoterapici possono accentuarne l'azione o possono addirittura ridurre l'azione per cui noi magari possiamo avere una strana interazione e vedere che un prodotto un farmaco improvvisamente ci cura troppo ci cura troppo poco e quindi avere delle conseguenze come fare perché tutto questo non avvenga bisogna rivolgersi al nostro medico è un consiglio che Antropos da sempre non facciamo i medici di noi stessi non facciamo l'autoterapia facciamo invece casomai la attenzione a rivolgersi al nostro medico facciamoci dare una diagnosi del nostro problema dopodiché evidentemente potremo anche cercare di curarci con queste medicine complementari